ancora una buona serata a tutti voi da parte della nostra redazione bentrovati all'ultimo appuntamento con il nostro telegiornale dunque il consiglio di stato riaccende una piccola fiammella di speranza per la città per i tifosi per la società del campo basso è stato accolto il ricorso dopo che invece la tarlazio aveva negato la sospensiva alla società il consiglio di stato ha invece accolto questa richiesta fissando al 25 agosto l'udienza di merito la situazione è ancora tutta da decifrare perché domani mattina la lega ha fissato a mezzogiorno il sorteggio dei calendari della lega pro e dunque i tempi sono piuttosto ristretti vedremo che cosa succederà nelle prossime ore intanto anche la guardia di finanza ha messo le mani nella società con una indagine tutta da scoprire da capire sentiamo i dettagli nel servizio di luigi di lallo notizie dell'ultima ora riguardo il campo basso calcio il consiglio di stato ha accolto l'istanza dei lupi assistiti dall'avvocato cesare di cintio di sospendere la decisione del tar che confermava la mancata ammissione del club in lega pro decisa in precedenza da figici e coni il consiglio di stato ha fissato l'udienza in merito il 25 di agosto per la discussione del ricorso del team molisano da capire se a questo punto la lega pro procederà comunque alla presentazione dei calendari nella giornata di domani così come da programma alle ore 12 l'organo di terza serie nel pomeriggio ha provveduto alla compilazione dei gironi da segnalare l'ingresso del pescara nel raggruppamento c un atto assolutamente inaspettato e clamoroso che a questo punto potrebbe ritardare la possibilità di usufruire del lodo petrucci il nostro auspicio e che il sindaco vada comunque per la sua strada cercando di salvaguardare almeno la serie d nella piazza rosso blu il tutto quando nel pomeriggio si è alzato un polverone in casa campo basso sarebbero almeno quattro le persone che orbitano attorno alla società sportiva rosso blu iscritte nel registro di indagati per reati di natura finanziaria le indagini portate avanti dalla guardia di finanza locale sarebbero partite lo scorso autunno nel mirino delle fiamme gialle spostamenti di denaro società con sede all'estero e relativi bilanci attendiamo novità da sviluppare già a partire della giornata di domani siamo all'andamento del covid di 209 il numero di casi risultato di 820 tamponi processati sempre a campo basso 42 il numero più elevato di contagi poi termoli con 19 10 a isernia è deceduto un 66enne di mafalda era ricoverato in terapia intensiva ora sono 21 i pazienti al cardarelli dei quali uno in terapia intensiva 64 le persone guarite gli attualmente positivi sono 4572 e siamo alla pagina politica con la lega nord che tocca anche il molise nel tour del segretario matteo salvini intanto michele marone commissario della lega in molise annuncia la sua candidatura è un mio dovere essere al servizio del partito ha detto sentiamo pasquale di bello a pochi giorni dalla presentazione delle liste parla michele marone commissario regionale della lega in molise tra le tante sono tre le questioni principali che il carroccio porta avanti con particolare attenzione pace fiscale sicurezza e il primo punto che sarà portato avanti dal futuro governo speriamo che sia di centrodestra e quello della pace fiscale è impossibile che i cittadini italiani dopo due anni di pandemia ecco tutte le problematiche di natura economico e finanziare il caro bolletto il caro carburante si vedano arrivare oggi delle delle cartelle sattoriali dell'agenzia delle entrate astronomiche con ingiunzioni di pagamento a stretto giro quindi la prima cosa che sarà proposta della lega pace fiscale anzi anche un'ipotesi di un condono tombale per evitare tutte le pendenze e dare la possibilità ai singoli cittadini italiani di riprendersi e di tornare a lavorare con serenità tema centrale sempre per la lega è quello della sicurezza matteo salvini insieme al nostro sottosegretario degli interni nicola molteni siamo riusciti a stanziare con il governo dei fondi da destinare alla sicurezza oltre al piano di sicurezza delle spiagge sono stati destinati al milione a al molise anche altri 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 fondi da ripartire fra campo basso e la provincia di sernia a tutela degli anziani contro le truffe che spesso noi vediamo fare appunto a casa delle anziani la lega di governo ha già messo in atto delle delle misure degli interventi straordinarie a favore della ripresa delle attività produttive e l'esempio più più significativo è il lavoro fatto dal nostro ministro Giancarlo Giorgetti al Mise che grazie al suo lavoro e grazie al finanziamento di di parecchie centinaia di milioni di euro ha convinto il gruppo Stellantis a mantenere lo stabilimento fiat qui ex fiat qui a termoli con la decisione di realizzare la gigafactory italiana sulle prossime elezioni politiche quello di marone è un nome in corsa per uno dei seggi di peso ma lui non fa distinzioni sono un uomo di partito e mi candiderò comunque quale che sia il ruolo che mi verrà assegnato dice poi annuncia la prossima visita di Matteo Salvini in molise anticipo che anche Matteo Salvini sarà presente qui in molise per la campagna elettorale essendo io segretario regionale in qualità di commissario regionale della lega in molise sicuramente sarò candidato perché il partito ha chiesto a tutti i segretari regionali del partito di dare la disponibilità e per la viabilità dell'alto molise è sempre emergenza con la prolungata chiusura del viadotto sente o occorre predisporre una viabilità alternativa che offra maggiore sicurezza per questo la provincia ha ottenuto dalla regione un finanziamento straordinario ma ci sono novità anche per la bretella di Castelpizzuto sentiamo Enzo Di Gaetano viabilità in alto molise l'emergenza è continua per ora di riaprire il ponte sente che collega Agnone con l'Abruzzo non se ne parla occorre uno studio preliminare un progetto e tanti soldi comunque per il momento occorre far subito fronte ad una ripresa autunnale che si presenta problematica perché il percorso alternativo quello della strada provinciale Estonia è dissestato e pericoloso tale da non consentire il passaggio a normali pullman ma solo a minibus per questo mettere l'Istonia in sicurezza è essenziale perché centinaia di abruzzesi raggiungono ogni giorno Agnone per frequentare scuole ospedale e uffici vari problema in via di soluzione perché la regione ha risposto all'appello lanciato dalla provincia di Sernia abbiamo ottenuto la concessione di un milione e duecentomila euro per il rifacimento dell'intero tratto provinciale della Estonia che è centrale per l'alto molise insomma siamo impegnati su tanti fronti per migliorare la viabilità che significa sicurezza per i cittadini che vi transitano ma c'è anche un'altra emergenza quella di Castelpizzuto il paesino alle porte di Sernia tagliato fuori da più di un anno dopo la frana che ha distrutto la strada provinciale come per il Sente anche qui c'è un'alternativa e quella della Bretella e anche qui la provincia sta intervenendo abbiamo asfaltato dopo credo 20 anni è un tratto importante del centro di Longano e sappiamo quanto Longano risenta delle problematiche connesse al transito dei mezzi pesanti che vanno verso lo stabilimento della Castellina sempre per restare in tema Castelpizzuto dopo un'intesa raggiunta qualche settimana fa in prefettura d'accordo con il sindaco di Castelpizzuto abbiamo provveduto ulteriormente a rinforzare con asfalto la famosa o famigerata Bretella stiamo completando in questi giorni ovviamente lì la priorità resta sempre l'ottenimento del finanziamento su questo continuiamo a premere con la regione per avere la concessione formale la regione sta attendendo un decreto dalla protezione civile nazionale in tal senso sono passati quattro anni dal terremoto che ha colpito il basso molise nel 14 al 14 e 16 di agosto intanto il 31 scadono i termini per presentare le richieste di contributo ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo poco meno di quattro anni fa il terremoto colpì una vasta area del basso molise 21 comuni compresi nel cratere tra questi più di uno con danni ingenti anche sfollati e la ricostruzione da allora è al palo due settimane fa con un'ordinanza sono state messe a fuoco le regole per la presentazione delle istanze di riparazione funzionale ma c'è un problema la scadenza del 31 agosto sta creando non pochi disagi tanto da spingere Giorgio Manes sindaco di Montecilfone tra i comuni maggiormente colpiti dal sisma assieme a Guglionesi soprattutto a inviare una nota al commissario ad acta Donato Toma e al responsabile di struttura Giuseppe Cutone per chiedere una proroga dei termini l'ordinanza di ricostruzione e riparazione si riferisce a edifici e unità immobiliari a uso produttivo commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti molti tecnici hanno manifestato ha scritto Manes nella lettera la loro difficoltà a produrre le pratiche entro il 31 agosto oltre alla difficoltà di reperire ditte con l'immediata disponibilità in quanto alcune sono già impegnate con lavori con il super bonus 110% l'ordinanza numero 5 prevede l'implementazione della piattaforma digitale scheda parametrica utile alla determinazione del contributo massimo concedibile sulla base dei parametri previsti dal provvedimento commissariale e proprio su questo Manes nella lettera ha sottolineato l'inattività della piattaforma e l'assenza di credenziali per accedere ma qualcosa si è mosso credenziali fornite resta aperta la questione proroga del termine di presentazione dell'istanza di concessione del contributo il sindaco di Montecilfone l'ha chiesta a nome di tutti i sindaci del cratere tragedia in un appartamento di Viatrigno a Termoli una giovane donna di 44 anni è stata trovata senza vita dai genitori che sono rientrati in casa nella notte sul posto gli operatori del 118 i volontari della misericordia e la polizia tutto da subito ha lasciato pensare a un gesto estremo della donna questa mattina è stato presentato a Campobasso il bando turismo e cultura del 2022-2023 l'occasione per fare il bilancio delle attività messe in campo 7 milioni di euro stanziati sul prossimo bando ce ne parla in questo servizio Anna Maria Di Matteo dalla 2018 ad oggi la regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro di cui 3 solo per quest'anno per la valorizzazione e la promozione del turismo un progetto che va avanti e che già guarda al prossimo anno in mattinata il presidente della regione Tome e l'assessore alla cultura Cotugno hanno fatto il punto nel corso di una conferenza stampa organizzata all'ex Gil illustrando anche i contenuti del bando turismo e cultura 2022-2023 Dopo due anni di pandemia veramente è un grande piacere ripartire con il territorio oltre 300 manifestazioni su tutto il territorio regionale da Venapro a Termoli, da Agnone a Larino nessuno è escluso, tutti quanti quelli che hanno partecipato con oltre 100 progetti sono stati tutti quanti all'altezza di una grande offerta turistica e culturale della nostra regione oggi presentiamo il impropriamente detto come dicevo prima il cartellone ma soprattutto facciamo un po' quel punto della situazione 2022 con un lancio anche il 2023 perché siamo anche pronti per il 2023 questa è la grande novità di oggi che noi prima di novembre siamo in condizione di presentare tutto il programma 2023 da gennaio a dicembre 2023 per promuovere una regione che finalmente è su tutto il panorama nazionale e internazionale relativamente al turismo sono circa 7 milioni e 400 mila euro abbiamo investito sin dal 2018 i risultati sono tangibili diciamo che siamo soddisfatti possiamo fare ancora meglio e ancora di più Su che cosa state puntando in maniera particolare? Guardi c'è un'idea che quest'anno è stata si è concretizzata che noi dobbiamo avere diversi segmenti di eventi quelli culturali un po' più delit dove ci vuole una educazione al teatro, alla musica di tipo diverso da un'educazione più popolare e sono quelli che fanno capo a Poetica per esempio che porta avanti la Fondazione Molise Cultura poi abbiamo una fascia molto importante che è quella dei festival che non può essere confusa e trattata la stessa maniera del sostegno che diamo all'attività del folklore all'attività delle sagre popolari quindi dobbiamo discernere questi eventi disavventura a Termoli per un ragazzo di 18 anni svizzero mentre era a bordo di un gommone con la famiglia ha accusato un malore e immediata l'ha chiamata alla capitaneria che ha chiesto l'intervento del lifeguard Carlo Pesimena, il bagnino, è partito con il Moscone alla volta del gommone che era a largo lo vediamo nelle immagini lo ha raggiunto, ha caricato il ragazzo e una volta arriva lo ha assistito il giovane si è ripreso poco dopo e disavventura anche in via Duca degli Abruzzi a Termoli per un giovane di 24 anni in vacanza con i genitori due giovani di nazionalità straniera poi identificati dai carabinieri si sono avvicinati al turista uno dei due che lo ha spinto gli ha strappato la catenina che aveva al collo ferendolo prima di fuggire i due balordi lo hanno minacciato dicendo che conoscevano l'indirizzo di casa il ragazzo per alcuni minuti sotto shock ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri e sempre a Termoli si punta sempre di più a favorire una mobilità sostenibile realizzando progetti con più zone pedonali e meno auto in centro sentiamo Francesca Danversa 300 posti auto su tre livelli con una copertura in pannelli solari e colonnine di ricarica elettrica per le auto è il progetto del parcheggio multipiano in piazza donatore di sangue a Termoli presentato in comune che rientra nel progetto di riqualificazione della mobilità è un progetto che noi quando ci siamo insediati abbiamo in qualche maniera ipotizzato soltanto all'inizio poi per evitare di prendere alcuni fondi assegnati al comune di Termoli abbiamo chiesto alla regione di rimodulare quei fondi che erano previsti per il tunnel nella costruzione di questo parcheggio multipiano perché sono sempre fondi legati alla mobilità e sulla base di un progetto di riqualificazione della stazione di Termoli da parte di RFI ci sono delle belle soluzioni che eviteranno di fare entrare le macchine a Termoli e di poter creare maggiori aree pedonali per una città che l'estate poi il centro lo vive in maniera intensa un progetto pensato in collaborazione con Ferrovie dello Stato che comprende anche un sovrappasso ciclopedonale sopra i binari della stazione per essere in centro città in pochi minuti la data di inizio lavori sarà contemporanea con quella del raddoppio ferroviario il progetto del tunnel è stato abbandonato e il relativo finanziamento da 5 milioni di euro è stato rimodulato per il nuovo multipiano che sarà appaltato entro il 31 dicembre l'amministrazione punta sempre più a creare le condizioni per una mobilità ciclopedonale e in quest'ottica che il sindaco Roberti ha parlato anche di un'opera che collegherà via Carlo del Croix con il porto turistico torniamo a parlare di emergenza cinghiali ma anche di peste suina per quest'ultima via libera dalla regione al piano di interventi sentiamo Tonino Danese gestire e controllare e soprattutto eliminare la peste suina africana è l'obiettivo del piano di interventi urgenti per il quale c'è il via libera della regione uno strumento a lungo sollecitato che è valido 5 anni e si applica all'intero territorio regionale compresi parchi oasi di protezione territori di caccia aree urbane si tratta di un'integrazione dei piani di controllo selettivo approvati considerata l'emergenza si vuole anche proteggere le aziende zootecniche e gli allevamenti suini dal rischio del virus della cosiddetta PSA con il riscontro rapido dell'infezione il piano vuole anche essere uno strumento per intervenire sull'emergenza cinghiali infatti tra gli obiettivi c'è la riduzione del numero di questi animali considerando il ruolo epidemiologico che hanno nella propagazione della malattia nell'ambito dei piani di gestione regionali della fauna selvatica è prevista infatti la possibilità di ricorrere a iniziative per ridurre i cinghiali almeno dell'80% in 5 anni un obiettivo ha detto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vittorio Nola che andava perseguito già da qualche anno mentre si è perso tempo prezioso è stato finalmente approvato il piano di gestione della fauna selvatica che sollecitavo da tempo ha continuato commentando poi il ricorso respinto presentato dalla regione che in Italia la proliferazione degli ungulati sia ormai fuori controllo è un dato di fatto così come era abbondantemente prevedibile ha spiegato Nola che la regione avrebbe dovuto pagare con tanto di interessi danni causati agli agricoltori e ora alla beffa si aggiunge il danno non solo non si è provveduto immediatamente a risarcire le aziende danneggiate dai cinghiali ma si è tentato di aggirare il problema il risultato spese e legali aggiuntive per opporsi alle legittime richieste di risarcimento più i costi dell'appello ma il diritto degli agricoltori resta in piedi il titolare della delega all'agricoltura ha concluso Vittorio Nola ha preferito cercare capri e spiatori il ministro Patuanelli su tutti salvo poi correre ai ripari ad emergenza già scoppiata con soluzioni tampone e non concertate a dovere si è spento nella notte ad Agnone Pasquale Desimone già segretario comunale ed ex vice sindaco eletto nella lista di Francesco Marco Vecchio nel 1999 l'uomo classe 1947 combatteva da tempo contro una malattia i funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di Maiella ad Agnone da Telemodise il cordoglio alla famiglia e occhi puntati al cielo stellato a Castel del Giudice si è svolto l'evento astronomia e miti ce ne parla Enrico Desimone una serata con il naso all'insù per osservare le luci del firmamento a Castel del Giudice l'evento le stelle nel borgo organizzato dal comune dall'albergo Borgo Tufi e dal blog Turismo in Molise ha catturato l'attenzione di numerosi visitatori che hanno potuto apprezzare i paesaggi e la tranquillità del borgo alto molisano prima la visita alla mostra fotografica del Molise a Casa Tua poi il laser al cielo per osservare particolari costellazioni e restare in ascolto di miti greci l'iniziativa guidata dal blogger Paolo Pasquale ha alimentato le fantasie del gruppo di curiosi tutte le divinità di cui si parla nelle stelle in realtà erano divinità cui i nostri avi prima sanniti e per romani credevano veramente e quindi tantissimi sono i templi ritrovati in onore di Diana di Ercole di Giove di Saturno eccetera eccetera quindi il nesso stelle territorio c'è come tra un racconto su Zeus e uno sguardo alla costellazione del dragone non è mancato il buon cibo l'albergo diffuso di Borgotufi ha offerto ai visitatori un gustoso menù composto da piatti realizzati con prodotti locali abbiamo portato in tavola la tradizione molisana abbiamo fatto un menù basato soprattutto su prodotti locali tra cui verdure dell'orto di produttori locali produttori molto vicini a noi abbiamo un orto che da poco tempo è stato impiantato per cui a breve avremo anche le nostre verdure e tutto ciò che immettiamo nei piatti il nostro menù è un menù molto tradizionale caciocavallo locale stracciata quindi si cerca di valorizzare tutti i prodotti del posto presto a Castel del Giudice gli occhi saranno nuovamente puntati al cielo l'appuntamento astronomico si rinnoverà all'8 e il 21 agosto prossimi riconoscimento alla federazione cooking show per Claudio Recchi titolare del ristorante Recchi Fiscia Termoli è stato assegnato il titolo di stella della ristorazione per essere eccellenza termolese nel settore con l'impegno di rispettare oggi e sempre le regole della buona cucina marinara mediterranea nel mondo si legge nelle motivazioni tutto pronto a San Martino in Pensilis per il Joe's Blues Festival 5 e 6 agosto in Largo Trinità sentiamo Pasquale Di Bello Sarà la performance elettrica della Mighty Mo Rogers Band ad aprire venerdì 5 agosto l'undicesima edizione del Joe's Blues Festival di San Martino in Pensilis Mighty Mo Rogers 80 anni soprattutto alle tastiere e collaborazioni prestigiosissime una su tutte la produzione di Sonny e Brownie album seminale di Sonny Terry e Brownie McGee a seguire il 6 agosto sempre nella meravigliosa cornice di Largo Trinità ad esibirsi sarà James Dolce con la sua band gli Inner Soul a curare l'edizione 2022 è stato Vincenzo Nardelli Artisti internazionali fortunatamente riusciamo a riaccogliere in Italia artisti provenienti dagli Stati Uniti parliamo di blues quindi chiaramente la patria del blues è quella Mighty Mo Rogers la prima sera la seconda sera chiuderà Jamie Dolce da New York però non dimentichiamo quegli artisti locali quindi le aperture le affidiamo agli artisti italiani The Blues Queen la prima sera e la seconda sera ci sarà Antonio Gambacorta come tantissimi altri eventi dell'estate molisana il Joe's Blues Festival è sostenuto dal programma Molise Cultura della regione Molise ma una rassegna di grandi contenuti e di grande qualità con il Bando Turismo e Cultura 2022 oltre 100 progetti finanziati con oltre 300 manifestazioni durante tutto l'anno 2022 per veicolare un patrimonio culturale grandissimo della nostra regione proprio attraverso gli eventi nel programma dell'estate San Martinese il Blues è un appuntamento fisso in una cornice meravigliosa sottolinea il sindaco Giovanni Di Matteo questo progetto musicale che nasce nato 11 anni fa si innesta in un contesto bellissimo che è quello del centro storico di San Martino che è rappresentato Largo Trinità ed è ormai un evento importante che comincia ad avere una storia altrettanto importante il Joe's Blues Festival è dedicato alla memoria di due animatori e protagonisti della scena musicale San Martinese Lino Musacchio e Giancarlo grazie a plena la messa dell'aurora un momento di magia per il popolo di San Basso nella giornata dedicata al patrono di Termoli alle 6 questa mattina come vedete dalle immagini al mercato del pesce la celebrazione ufficiata dal vescovo Gianfranco De Luca ha cominciato la seconda giornata di festeggiamenti aperta con la processione a mare ieri davanti a tanti fedeli il vescovo ha parlato di amore coniugale di famiglia di figli tutto ha detto De Luca si può affrontare superare con la parola e la preghiera dopo la messa in processione la statua di San Basso è stata riaccompagnata in cattedrale e noi San Basso si chiama così la mostra itinerante curata dal fotografo Stefano Leone dedicata al santo ce ne parla Andrea Nasillo noi San Basso è l'ultima iniziativa di Stefano Leone fotografo eclettico di Termoli che negli anni ha immortalato personaggi e scorci suggestivi della città la mostra itinerante aperta fino al 5 dicembre giorno che per il calendario e a tutti gli effetti San Basso è dedicata proprio al patrono di Termoli curata da Leone vedrà la partecipazione di alcuni artisti internazionali tante foto sono state portate in processione dalle barche e molte saranno inserite nelle casette dei libri posizionate in più punti della città in collaborazione con l'associazione Il Mosaico il sindaco Francesco Roberti ha definito Leone un fotografo capace ogni anno di realizzare dei capolavori e di trasmettere ai giovani le tradizioni e la termolesità senza meno è un momento di riflessione rivelberato nel tempo partendo dall'occasione della festività estiva del Copasono San Basso per estendersi fino al 5 dicembre quindi la fotografia come mezzo non solo di realizzazione e di esternazione della propria sensibilità ma come forma di attenzione che ognuno può rivolgersi e in relazione all'immagine che inquadra e in relazione ai sentimenti che quell'immagine suscita in ognuno Ora dovremo vedere le immagini del concerto all'alba inserito nel cartellone di Borgo in jazz a località Frutteto a gamba tesa sul palco con alle spalle la vallata Manuel Concettini trio Concettini alla tromba era accompagnato da Marco Mancini all'organo Emmond e da Alberto Romano alla batteria dopo il concerto una colazione in azienda agricola e una passeggiata a cavallo domani intanto a Ferrazzano ultimo appuntamento del lunghissimo calendario della rassegna in piazza De Santis GVG trio con Vittorio Solimene al piano Giulio Scianatico al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria E ancora un appuntamento prima di concludere si tratta della notte arancione nel borgo domani a Frosolone nel percorso attraverso il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia 18 postazioni dedicate a sapori prodotti tipici artigianato e dieci set di spettacoli musicali con artisti di strada animazione disco music tutto a partire dalla mezzanotte era l'ultima notizia dell'ultimo TG di oggi prossimo appuntamento con la nostra informazione e la rassegna stampa di domani mattina è tutto grazie per essere stati con noi e buonanotte grazie a tutti Grazie a tutti.